Nella mia attività quotidiana ho sempre richieste più frequenti di trattamenti naturali. Le pazienti vengono e richiedono dei trattamenti di ringiovanimento senza stravolgere la loro fisionomia. In effetti per rispondere a questo desiderio loro è nata la tecnica di bioristrutturazione, tecnica di medicina estetica che sempre più frequentemente sto adoperando nella mia attività professionale. Si tratta di una tecnica scientifica estetica mini-invasiva che consente di iniettare delle sostanze a volte peculiari per dare un effetto più giovanile al viso, dare luminosità, turgore, elasticità, tutti elementi che le pazienti oggigiorno cercano nei trattamenti estetici all'avanguardia. Nel particolar modo utilizzo delle sostanze a base di idrossiapatite di calcio, di idrossimetilcellulosa che oltre a dare un effetto di biorivitalizzazione permettono anche di svolgere un effetto ristrutturante della pelle grazie alla loro componente peculiare e alla possibilità di stimolare nuovo collagene. In questo modo si ottiene un viso più liftato, una pelle più turgida, più luminosa e più elastica ed è proprio questo trattamento che oggigiorno le nostre pazienti richiedono più frequentemente perché rispetta il nuovo concetto di invecchiamento ovvero il well aging, invecchiare in buona salute.